Ciao a tutti, l'ultima settimana sera, continuiamo con la storia del crew. Stavolta raccolta pacchi per scegliere. Ma presto, è davvero troppo aperto. Sta' attento, potrebbero esserci sbirri, serpenti, e tutto. Non ti piace proprio la natura, eh? Trova subito le casse. Sei troppo allo scoperto, non mi piace. Ma questa raccolta pacchi, secondo me, è più intestata degli altri, più difficile, secondo me, per la mia spagliazione, per la zona, per la vegetazione, non ti può vedere niente, i piccoli chiusi. Guardate, le altre raccolta pacchi erano al deserto, qua invece sono in questo vigneto campagna. Cazzo, l'ho lasciato indietro uno. Penso di che stia andando bene. Merda. G 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